Allora abbiamo cominciato a parlare di raggiungibilità di un sistema, abbiamo definito il sottospazio perché è un sottospazio, degli stati raggiungibili a partire dallo stato nullo, abbiamo detto che questo sottospazio mi dice poi alla fine quali saranno gli stati raggiungibili da opportuno is con zero, partendo da opportuno is con zero, mentre il sottospazio di raggiungibilità è l'insieme degli stati raggiungibili a partire dall'origine. Abbiamo stabilito alcuni test di raggiungibilità, il primo abbiamo visto che l'insieme di raggiungibilità è uguale all'immagine del, e lo chiamiamo, gramiano perché è un gramiano, di raggiungibilità nell'intervallo t con zero, t con f, e quindi r a partire da zero, poi tra poco non metteremo più questi argomenti, nell'intervallo nell'intervallo t con zero, t con f, è uguale all'immagine del gramiano di raggiungibilità, ovvero sia integrale tra t con zero e t con f, di e alla a, t con f mentau, b, b trasposto, e alla a, trasposto, t con f mentau, indi tau. E' appena il caso di osservare, e questo gramiano può anche essere scritto così, l'abbiamo già visto, con un cambiamento di variabile, va bene, in questo integrale, t con f mentau è uguale a tau primo, otteniamo integrale tra t con zero e t con f, sempre, di e alla a tau, tau primo o tau, gli cambio già nome, dopo quel cambiamento di variabili di cui ho parlato un secondo fa, b, b trasposto, e alla a trasposto tau, in, di tau. Ecco, allora il primo test di raggiungibilità è ovvio, va bene, è noto a e b, va bene, t con zero e t con f è l'intervallo di interesse, va bene, calcoliamo questo integrale, l'immagine di questo integrale è il sottospazio di raggiungibilità, va bene, e quindi potrei dire che una base del sottospazio di raggiungibilità, c'è qualche problema? E alla a tau, sì. Da questo, ho detto, da questo qui, su questa espressione ha dei dubbi, no, questo è il grammiano di raggiungibilità, su questa espressione, se chiamiamo tau primo uguale a t con f mentau, ed effettuiamo questo cambiamento di variabili, otteniamo, forza, facciamolo, integrale, vediamo un po', quando tau è uguale a t con zero, tau primo è t f meno t con zero, e quando tau uguale a t f, otteniamo zero, siamo d'accordo? di e alla a tau primo t con f mentau e tau primo, b, b trasposto, e alla a trasposto tau primo, t f mentau e tau primo, di tau, ma di tau è meno di tau primo, siamo d'accordo? uguale, uguale quindi, levando il meno, integrale tra zero e t con f mentau, di puntolini, questa qui. Ecco, dopodiché lasciamo perdere le dimostrazioni, scriviamolo come l'abbiamo, e tra zero e t con f menti zero, tra zero e t con f menti zero, ma ci importerà molto relativamente, l'uno o l'altro, sono ben lo stesso. Ho preannunciato, e quindi scusate, dicevo, il primo test di raggiungibilità è calcolare questo gramiano, o questo che è la stessa cosa, va bene, e andare a vedere la sua immagine, va bene, in particolare, se detto gramiano è non singolare, vuol dire che la sua immagine è tutto lo spazio X, e quindi diremo che il sistema è, si dice così, completamente raggiungibile. Se invece questo gramiano è singolare, va bene, allora vuol dire che non tutto X è raggiungibile, ma ci sarà un sottospazio di raggiungibilità, di dimensioni, visto che è un sottospazio, possiamo parlare di dimensioni, di dimensioni inferiore, inferiore ad n, dove n è l'ordine del sistema, una sua base, come la possiamo trovare, la possiamo trovare così, se volete. G con R, il gramiano, sarà una matrice, ovviamente, con n colonne, perché è una matrice quadrata, n righe, ed n colonne, va bene, cominciamo a prendere il primo vettore, poi prendiamo il secondo e vediamo se è linearmente indipendente dal primo, se è linearmente indipendente lo teniamo, se è linearmente dipendente lo scartiamo, va bene, e così via prendiamo lo iotesimo, la iotesima colonna di questa matrice, vediamo se è linearmente indipendente da quelle che mi sono tenute prima con questa tecnica, teniamo anche quella, se fosse linearmente dipendente, va bene, la scartiamo. Arriviamo in fondo e troviamo un numero di colonne, se fossero n, vuol dire che la matrice è, non singolare, quindi discorso di prima, otteniamo un numero di colonne inferiore ad n, questa sarà una base dell'immagine, e quindi del sottospazio di raggiungibilità. Ci ho detto, ho preannunciato, l'ultima volta, che non è indispensabile andare a calcolare tutto quel gramiano, gli integrali, eccetera, eccetera, e così via, e che vale la seguente proprietà. Immagine del, e lo scrivo così, gramiano di raggiungibilità, nell'intervallo T con 0, T con F, è uguale all'immagine di una certa matrice, che chiamiamo matrice di raggiungibilità, la chiamiamo P con R, la quale, matrice P con R, è così costruita. B, tutte le colonne di B. Poi, costruiamo le colonne A, B. Ovviamente, se il sistema ha M ingressi, queste colonne sono M, e anche queste sono M. Puntolini, a quadro B, a cubo B, e così via. Dicevo ieri, e lo ripeto, per non saperne leggere né scrivere, potrei fermarmi prima, poi eventualmente lo vediamo. A alla N meno 1 per B, che sono ancora M colonne. Ottengo una matrice con un numero di, con N righe, ovviamente, ed M per N colonne. Una matrice rettangolare, quindi. Bene. Allora, voglio far vedere che l'immagine del gramiano, quindi il sottospazio di raggiungibilità, risparmiatemi a partire da 0, nell'intervallo T con 0, T con F. Va bene. È uguale, certamente, a questo. Questo l'abbiamo visto, ed è uguale anche a questo qui. Dobbiamo dimostrare l'uguaglianza di questi due sottospazi. Dimostrare che due sottospazi sono uguali è perfettamente equivalente a dimostrare che sono uguali i loro ortogonali. Due sottospazi sono uguali se e solo se, ovvio, i due sottospazi ortogonali sono uguali. Allora, scriviamo l'ortogonale di questo. L'ortogonale dell'immagine di una matrice è uguale al nucleo della matrice trasposta. Nucleo della trasposta. E quindi il nucleo di G con R trasposta. Ma se noi andiamo a guardare G con R una matrice di il gramiano in definitiva vediamo subito che il gramiano è una matrice simmetrica. E quindi dire la trasposta del gramiano significa dire il gramiano stesso. e quindi il nucleo del gramiano nell'intervallo T con 0 T con F del gramiano di raggiungibilità deve, cioè deve, dobbiamo dimostrare che è uguale a questa immagine ovvero sia al nucleo della matrice B trasposto vettore insieme di vettori riga B trasposto A trasposto puntolini B trasposto A trasposto alla N meno 1 per dimostrare l'uguaglianza di questi due sottospazi dobbiamo dimostrare due inclusioni una e una due allora cominciamo con questa inclusione e quindi se X appartiene al nucleo di P con R questa matrice allora significa prego si P con R trasposto ha ragione grazie questa matrice non è simmetrica ci mancherebbe altro va bene allora se X appartiene al nucleo di P con R trasposto che è questo significa che se moltiplico per X questa matrice il risultato è un vettore nullo va bene il che significa questo comporta che B trasposto per X è un sotto vettore nullo B trasposto A trasposto per X è ancora un sotto vettore nullo puntolini risparmiatemi un passaggio l'ultima sarebbe B trasposto A trasposto alla N meno 1 per X è uguale a 0 però attenzione va bene ormai dovremmo averlo imparato applicazione del teorema di Cole Hamilton A alla N la posso esprimere come combinazione lineare di A alla 0 patrice identica A alla 1 alla 2 punto linee A alla N meno 1 se ne conclude che anche B trasposto per A trasposto alla N per X è uguale a 0 e se si vuole anzi va bene più in generale B trasposto A trasposto alla P qualunque sia P intero va bene per X è uguale a 0 allora il fatto che X appartenga al nucleo di questa matrice porta a queste conseguenze siamo d'accordo? ma allora moltiplichiamo G con R per X e vediamo cosa succede G con R è integrale tra T con 0 e T con F di E alla A va ritorniamo al T con F meno T se no scriviamo così integrale tra 0 e T con F meno T con 0 di E alla A tau B B trasposto E alla A trasposto tau in di tau se lo moltiplico per X a destra per X in di tau tanto quell'X non dipende dal tempo e quindi lo posso portare dentro o consideriamo questo B T E alla A trasposto tau per X questa è una lo posso scrivere come serie di elementi dove compare A alla K con K variabile tra 0 e più infinito va bene ma allora B trasposto per A alla K per X sono tutti nulli e quindi conclusione questo integrale è 0 integrale moltiplicato X è 0 e quindi X appartiene al nucleo di G con R l'ultima questione siamo d'accordo che questo vettore è nullo o no? no allora questo vettore lo scrivo B trasposto per E alla A trasposto tau siamo d'accordo? ma che è somma per K che va da 0 a più infinito di A trasposto alla K per X alla K su K fattoriale siamo d'accordo? il tutto moltiplicato X siamo d'accordo? ma questa che cos'è? è la somma di per K uguale a 0 B trasposto per X prego A trasposto alla K Sì ma invece di X non deve essere tau alla K sì 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 per tau alla K sì chiedo scusa proprio l'absus quasi freudiano ma siamo d'accordo che questo è proporzionale i termini sono una costante tau alla K su K fattoriale che moltiplica B trasposto per in generale A trasposto alla K per X di K siamo d'accordo? ma ciascuno di questi termini per le uguaglianze che derivano dall'ipotesi precedente è uguale a 0 questo è B da cui tutto questo è uguale al vettore nullo sì o no? vuol dire che il gramiano per X è uguale a 0 e vuol dire quindi che X appartiene al nucleo di G con R siamo d'accordo? con questo abbiamo dimostrato una inclusione quale nucleo di G con R contiene certamente il nucleo di questa matrice perché ciascun elemento che appartiene al nucleo di questa matrice appartiene anche al nucleo di G con R viceversa questa inclusione se X appartiene al nucleo di G con R allora appartiene anche al nucleo di PR trasposto questo dobbiamo dimostrare allora l'ipotesi è che X appartenga al nucleo di G con R significa che integrale tra 0 e T con F menti 0 di E alla A tau B B trasposto E alla A trasposto tau in di tau per X uguale a 0 ma questo X al solito lo portiamo dentro e questa è l'affermazione X appartiene al nucleo di G con R attenzione questo 0 è un vettore il vettore è lungo e ora facciamo un giocchino come l'abbiamo già fatto in precedenza se moltiplichiamo questa a sinistra per X trasposto ottengo uno scalare ma che sarebbe X trasposto che è un vettore sì non nullo ma che moltiplica il vettore tutto nullo e quindi mi dà lo scalare 0 il che significa che l'integrale tra 0 e T con F menti 0 di X trasposto E alla A tau B B trasposto E alla A trasposto tau per X è uguale a 0 ma questo cos'è? è uno scalare ovviamente ma è il quadrato della norma quindi lo scrivo qui sotto norma di B trasposto E alla A trasposto tau per X norma al quadrato l'integrale di quella norma al quadrato in di tau è uguale a 0 ma la norma al quadrato è un numero o positivo o nullo e quindi va bene affinché quell'integrale possa essere 0 è necessario e anche sufficiente ovviamente che B trasposto E alla A trasposto tau per X sia il vettore nullo ritorniamo al vettore non più a scalare nullo per ogni T appartenente all'intervallo T con 0 T con F ovviamente ma allora scriviamolo questa roba qui questo diventa B trasposto che moltiplica e alla A trasposto tau significa va bene tau somma scusate per k che va da 0 a più infinito di tau alla k e lo mettiamo a destra su k fattoriale per A trasposto alla k e poi per X questo è il vettore nullo siamo d'accordo? ma quindi deve essere identicamente nullo qualunque sia il tempo tempo che possiamo chiamare T non più tau va bene qualunque sia il tempo compreso nell'intervallo T con 0 e T con F dicevo che questo qui è una somma di polinomi in T T alla 0 T alla 1 T alla 2 così via moltiplicato dei coefficienti che sono dei vettori va bene ma per il principio di identità dei polinomi questo qui è uguale a 0 in tutto un intervallo se e solo se i coefficienti dei monomi di tutti i coefficienti dei monomi in T sono nulli ricordo che dato il polinomio generale A alla K per T alla K più A alla K meno 1 per T alla K meno 1 più puntolini A con 0 va bene questo polinomio è nullo identicamente nullo in tutto un intervallo dell'asse dei tempi se e solo se tutti i coefficienti sono uguali a 0 e allora questo significa che per K uguale a 0 B trasposto A trasposto alla 0 matrice identica per X è uguale a 0 per X è uguale a 0 che B trasposto A trasposto alla 1 per X uguale a 0 scrivo la generale qui ovviamente B trasposto A trasposto alla Q qualunque sia Q per X è uguale a 0 il che significa che X appartiene al nucleo della matrice P con R trasposto finita la dimostrazione conclusione e questo sarà l'importante poi alla fine perché il resto cioè il resto va saputo ci mancherebbe altro però il sottospazio di raggiungibilità come immagine del gramiano non lo calcoleremo mai allora il sottospazio di raggiungibilità R a partire da 0 ovviamente è sottinteso ma nell'intervallo T con 0 T con F è uguale all'immagine della seguente matrice riscriviamola B AB A quadro B e ripeto senza saperne leggere né scrivere A alla N meno 1 per B prima osservazione questa matrice dipende dai tempi da T con 0 T con F e così via no il che significa che dato un sistema x punto a x più B U il sottospazio di raggiungibilità non dipende dall'intervallo in esame qualunque sia l'intervallo in esame su cui posso assegnare la U di T il sottospazio di raggiungibilità è sempre lo stesso non cambia secondo ovviamente il test di completa raggiungibilità si può eseguire su questa matrice o questa matrice è di rango pieno ovviamente per righe perché avrà certamente un numero di colonne maggiore o al più uguale quando ho un solo ingresso al numero di righe quindi faccio il test va bene sul rango di questa matrice se il rango è n allora vuol dire che il sistema è completamente raggiungibile il sottospazio di raggiungibilità coincide con tutto x se invece il rango di quella matrice è minore di n vuol dire che il sottospazio di raggiungibilità non è tutto x ma è un sottospazio di dimensioni pari al rango di quella matrice la matrice è rettangolare come facciamo a trovare il rango teoricamente dovremmo prendere tutti i minori di ordine massimo possibile trovarne uno a determinante diverso da zero se vi ricordate va bene teorema di Kronecker prendiamo un minore di ordine uno diverso da zero che ci sarà sicuramente perché se non ne trovassi nessuno di ordine uno diverso da zero vuol dire che la matrice è tutta nulla ovviamente dopodiché orliamo questo con tutte le possibili righe e colonne per vedere se troviamo un minore di ordine due va bene non singolare tenuto questo minore di ordine due lo orliamo con tutte le altre possibili righe e colonne per vedere se troviamo un minore di ordine tre a determinante diverso da zero e così via ci formiamo quando trovato un minore di ordine m a determinante diverso da zero orlando questo minore con tutte le altre righe e colonne che sono rimaste va bene nessun minore di ordine m più uno a determinante diverso da zero e diremo che il rango è m però nel caso di una matrice rettangolare trovare il rango è se la matrice fosse quadrata dire se è di rango pieno o meno basta calcolare il determinante di e se la matrice è rettangolare siccome ricordo sia h una qualunque matrice rettangolare con più colonne che righe immagine della matrice h uguale all'immagine di h h trasposto se vi ricordate l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di pseudo inverso va bene oh andarsela a rivedere la geometria da cui prendiamo la matrice p con r e facciamo p con r per p con r trasposto cosa ottengo una matrice quadrata di ordine n e andiamo a vedere il rango di questa matrice se questa matrice quadrata è non singolare vuol dire ovviamente che il sistema è completamente raggiungibile allora ora più per questioni di cultura va bene che non per questioni di diciamo perché sia perché sia indispensabile va bene vogliamo dimostrare che il sottospazio di raggiungibilità di un sistema x punto uguale a x più bi che il sottospazio di raggiungibilità va bene è proprio l'immagine di bi a bi a quadro bi così via altra strada questa seconda strada si chiama normalmente approccio geometrico e non algebrico alla determinazione della raggiungibilità di un sistema questo approccio ha bisogno di un lemma molto importante che si chiama anche lemma fondamentale dell'approccio geometrico ed è sostanzialmente per questo che faccio la dimostrazione che questo lemma va conosciuto il lemma afferma che l'insieme delle traiettorie va bene di questo sistema partendo da uno stato iniziale is con zero all'istante ti con zero ma nulla vieta questo istante ti con zero di porlo uguale a zero visto la stazionarietà del sistema in esame che tutte le traiettorie dicevo che partono dallo stato is con zero al variare comunque dell'ingresso u quindi c'è tutta una famiglia di traiettorie è completamente contenuto tutte queste traiettorie sono completamente contenute in un sottospazio s per lo spazio di stato se e solo se detto sottospazio contiene oltre che x con zero è ovvio se le traiettorie che partono da x con zero devono stare tutte in sottospazio anche x con zero deve appartenere a detto sottospazio quindi oltre allo stato iniziale x con zero vi devono appartenere anche tutti i vettori velocità in ogni istante la questione è abbastanza intuitiva però una dimostrazione formale decisamente semplice è la seguente devo dimostrare due cose condizioni necessarie e sufficienti va bene quindi prima dimostrazione se x punto di t qualunque sia t appartiene ad s allora anche tutte le traiettorie x di t appartengono al medesimo sottospazio s e poi faremo l'inverso per far questo diciamo s è un sottospazio pericolo va bene prendiamo il sottospazio ortogonale ad s avrà una base questo sottospazio ortogonale e consideriamo la matrice m va bene avente come colonne questa base del sottospazio ortogonale ad s e quindi s è ortogonale uguale all'immagine di m un qualunque vettore z tale che m trasposto z è uguale a zero allora vuol dire che questo z è ortogonale al sottospazio immagine di m va bene il che significa che z appartiene ad s ortogonale l'ortogonale di immagine di m è s ortogonale e viceversa va bene s è il nucleo di m trasposto allora ci ho detto va bene se ricordato questo dunque aspetti un istante va bene abbiamo allora apriamo una abbiamo un sottospazio s siamo d'accordo il sottospazio s avrà un suo sottospazio ortogonale siamo d'accordo fino a qui bene allora prendiamo una base di questo siamo d'accordo una base di questo sia una matrice m siamo d'accordo quindi le colonne di m costituiscono una base di s ortogonale dimensioni di m ovviamente avrà n righe ed ovviamente m colonne con m minore perché m sono le dimensioni dello spazio siamo d'accordo? bene allora se x appartiene ad s mettiamola in questa maniera va bene se un vettore x appartiene ad s significa che x è ortogonale e lo scrivo così ad m dove con m intendo tutte le colonne di m va bene e quindi se x è ortogonale a tutte le colonne di m significa che m l'ortogonale a m va bene non è altro che il nucleo di m trasposto siamo d'accordo? da cui significa che m trasposto per x è uguale a 0 se questo è vero vuol dire che x appartiene ad s siamo d'accordo? bene allora ci ho detto vediamo di non perdere il filo del discorso ripetiamo va bene abbiamo un sistema e cambiamo pagina quel z rivediamo un istante quel che ho scritto le chiedo scusa va bene appartiene m trasposto z uguale a 0 appartiene ad s z appartiene al nucleo di m trasposto va bene ma il nucleo di m trasposto è ortogonale all'immagine di m che è s allora va bene se noi prendiamo a questo punto il nostro sistema x punto uguale a x più b u la prima il primo discorso era se non mi sbaglio va bene se x punto di t qualunque sia t appartiene ad s allora anche x di t appartiene ad s ma se x punto di t appartiene ad s vuol dire che m trasposto per x punto uguale a 0 per ogni t ma se questo è vero integriamo integrale tra 0 e t con f qualunque sia t con f di m trasposto x punto in d t è uguale all'integrale di 0 in d t e questo integrale ovviamente è sempre 0 il che significa facciamo quest'integrale m trasposto una costante integrale di x punto in d t e x e quindi qui viene m per x all'istante t con f meno m per x all'istante 0 uguale a 0 si m trasposto si chiedo scusa ma m trasposto per x di 0 è certamente nullo perché per ipotesi x di 0 appartiene ad s da cui se ne conclude che m trasposto x di t f è uguale a 0 da cui va bene la x a qualunque istante t invece che t con f lo chiamiamo t appartiene ad s per ora abbiamo visto che se le derivate appartengono a un sottospazio allora stato iniziale compreso allora tutte le traiettorie appartengono a quel sottospazio viceversa se le traiettorie appartengono a quel sottospazio allora anche tutti i vettori derivata rispetto al tempo in ogni istante appartengono a quel sottospazio se x di t appartiene ad s allora m trasposto x di t uguale a zero per ogni t e vabbè scriviamo anche se ormai la questione è decisamente banale deriviamo m trasposto x punto di t uguale la derivata del vettore nullo è sempre nullo conclusione x punto di t appartiene ad s cosa ci serve vediamo un po' sia il nostro x punto uguale vediamo se riesco a cancellarlo ma che x punto uguale ax più b che è successo l'attenzione c'è sicuramente no dovrebbe essere ora si sta caricando c'è il simbolo in fondo di sulla destra allora dicevo sia x punto uguale a x più più questo sistema avrà un suo sottospazio di raggiungibilità che è certamente un sottospazio perché è l'immagine di una trasformazione lineare voglio far vedere che questo sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di via via quadro via e così via ovviamente una traiettoria appartiene ad r quindi una traiettoria costituita ovviamente da punti raggiungibili proprio perché stanno sulla traiettoria e quindi una traiettoria appartiene al sottospazio di raggiungibilità r non appena la sua derivata appartiene al sottospazio a quel medesimo sottospazio soltanto allora per il lemma visto ora la traiettoria appartiene a quel sottospazio allora allo stato iniziale nell'istante iniziale x con 0 uguale a 0 perché stiamo parlando del sottospazio degli stati raggiungibili a partire dallo stato nullo va bene ma se x all'istante iniziale è 0 la x punto è b per u e al variare comunque di u quella x punto descrive l'immagine di b che b moltiplicato i valori va bene il che significa che il sottospazio r nell'intervallo t con 0 t con f contiene sicuramente l'immagine di b siamo d'accordo o no questo all'istante di f 0 il lemma dice va bene il lemma precedente dice non mica ancora finito sa ricordo semplicemente che il lemma di prima dice se le traiettorie appartengono ad un sottospazio r allora anche le derivate appartengono a quel sottospazio in ogni istante allora io dico x con 0 è 0 ed x con 0 appartiene al sottospazio r il punto 0 appartiene a qualunque sottospazio siamo d'accordo allora vuol dire che in quell'istante va bene 0 la x punto deve appartenere ad r ma quando x uguale a 0 x punto uguale a b per u e al variare comunque di u questo descrive l'immagine di b vuol dire che il sottospazio di raggiungibilità contiene deve contenere certamente l'immagine di b non abbiamo finito perché oltre che all'immagine di b deve contenere l'immagine di a b a quadro b e così via per far questo va bene dobbiamo dimostrare che il sottospazio di raggiungibilità è un sottospazio a invariante noi lo sappiamo già che è un sottospazio invariante attenzione però non lo possiamo usare in questa fase perché sappiamo già via altra dimostrazione che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di b a b a quadro b a la n meno 1 per b va bene ma questa immagine è certamente un sottospazio invariante va bene perché qualunque sia x appartenente a questa immagine anche a x ci appartiene certamente però non possiamo usarlo qui questa è una dimostrazione alternativa se la usassimo saremmo nel caso di prima allora vediamo un istante se r di t con 0 t con f è un sottospazio invariante cosa devo dimostrare che se un x appartiene ad r risparmiatemi il t con 0 t con f allora anche a x appartiene ad r questo va bene dobbiamo dimostrare ma se x di una certa traiettoria questo appartiene ad r appartiene anche ad r x punto per il lemma fondamentale va bene e appartiene ad r non solo x punto ma per quanto abbiamo ora visto anche l'immagine di b e quindi anche l'elemento b per u che appartiene certamente all'immagine di b allora appartiene ad r al sottospazio di raggiungibilità sia questo che questo e quindi anche la loro differenza ma la differenza è a per x e quindi appartiene ad r anche a per x dimostrazione geometrica un pochino ma pensateci sopra va bene è perfettamente pulita se x appartiene appartiene ad una traiettoria appartiene ad r ci appartiene anche x punto va bene va bene ci appartiene anche l'immagine di b appena detto va bene e quindi ci appartiene anche a per x a questo punto se r è invariante va bene e contiene l'immagine di b siamo arrivati in fondo o quasi non ancora va bene ovviamente contiene mi chiedo scusa allora dicevo che se x contiene l'immagine di b deve contenere anche l'immagine di ab a per b e quindi contiene l'immagine di b ab ovviamente anche a quadro b punto lì a alla n meno 1 per b e se volete ma è inutile l'immagine di a alla n per b eccetera eccetera e così via dimostrazione cosiddetta geometrica della composizione del sottospazio di raggiungibilità osservazioni la prima ovviamente già detta lo ripetiamo il sottospazio di raggiungibilità è un sottospazio invariante la seconda da cosa è costituito vediamo un po' se b è b1 b2 b con m poi cosa ci devo mettere accanto per far sì che l'immagine della matrice sia il sottospazio di raggiungibilità a per b1 poi a per b2 puntolini a per b con m e poi cosa ci devo mettere accanto a quadro per b con 1 eccetera eccetera e così via siamo d'accordo? se io prendo b con 1 poi a per b con 1 a quadro per b con 1 eccetera eccetera cosa ottengo? ottengo la sequenza di Krilov generata da b con 1 è bene il sottospazio che ha come base i primi elementi di detta sequenza di Krilov fino ad arrivare al primo linearmente dipendente dai precedenti come l'abbiamo chiamato? ha un nome sottospazio ciclico generato da b con 1 stessa cosa con b con 2 anche lui genera un sottospazio ciclico e così via possiamo dire che il sottospazio di raggiungibilità è la somma dei sottospazi ciclici generati dalle colonne di B grande ritroviamo in forma banale il fatto che il sottospazio di raggiungibilità è un sottospazio invariante perché il sottospazio ciclico è certamente invariante e anche e la somma di sottospazi invarianti è ancora un sottospazio invariante non è detto che sia ciclico cioè non è detto che riesca a trovare un vettore che ciclicamente genera tutto il sottospazio di raggiungibilità perché i diversi sottospazi ciclici possono avere delle intersezioni fra di loro e quindi non si sa quel che succede è ciclico certamente il sottospazio di raggiungibilità di un sistema con un ingresso ma è banale io mi sono scordato una cosina invece cosa mi sono scordato nella dimostrazione ogni tanto succede ma facciamo attenzione vediamo un po' di ragionare su cosa mi sono scordato va bene nella cosiddetta dimostrazione geometrica va bene che il sottospazio di raggiungibilità va bene è l'immagine di via via eccetera 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 cosa abbiamo dimostrato e mi sono scordato un appendice ma abbiamo mica dimostrato che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di via via eccetera eccetera abbiamo dimostrato che questo sì che lo contiene va bene che il sottospazio di raggiungibilità contiene l'immagine di via via eccetera eccetera dobbiamo fare anche la dimostrazione inversa per dire che sono uguali e quindi che l'immagine di via via eccetera eccetera va bene contiene il sottospazio va bene di raggiungibilità ma per questa dimostrazione si ricorre alla dimostrazione già fatta va bene questa e abbiamo già fatto la dimostrazione va bene che il l'immagine del gramiano di raggiungibilità va bene è contenuta nell'immagine di via via eccetera eccetera l'abbiamo già fatto prima quindi va bene ci ricorriamo a quella bene sentite per oggi si chiude qui perché io avrei anche un mezzo impegno all'una non che sia importante va bene vedremo se in una qualche maniera recuperiamo ma per oggi chiudiamo qui e noi ci vediamo domani mattina alle 11 e mezzo grazie